salve a tutti ecco il quiz di logica che mi avete mandato allora è pronta già la penna 2 chiocciola più una specie di dollaro uguale chiocciola più non posso più dire una specie di dollaro perché il dollaro ce l'abbiamo qua più uno e non so come chiamare questo simbolo è uguale a 8 il dollaro è uguale a 3 allora chiede ci sono 4 risposte a b c d relativamente alla chiocciola dice uguale a 2 a 6 a 3 o a meno 4 benissimo allora abbiamo la relazione di questi due valori e li possiamo inserire direttamente all'interno abbiamo questi valori quindi qui diventa 2 chiocciola più 8 è uguale di nuovo la chiocciola non sappiamo quanto vale scusate qui ho dimenticato di scrivere la chiocciola più 3 più 1 benissimo 3 più 1 è 4 8 lo porto dall'altra parte diventa meno 8 4 meno 8 è meno 4 chiocciola porto dall'altra parte diventa meno chiocciola 2 chiocciola meno chiocciola e chiocciola uguale 4 benissimo ecco la risposta in diretta live del quesito che mi avete mandato te l'ho promesso non ti tolto del tu dai ti tolto del vabbè noi ci conosciamo ti tolto del tu solitamente ti ho detto l'ossente dell'eper è una questione di rispetto te l'ho promesso che ti avrei creato questo video te l'ho creato così adesso mi sento anche più opposto con la coscienza ciao e grazie